Tutto può succedere molto rapidamente. La vita, come sappiamo, può cambiare in un batter d'occhio. Possono sbocciare amicizie improbabili. Possono essere gettate alle ortiche importanti carriere. Speranze a lungo sopite possono essere riaccese. Sì, dobbiamo essere riconoscenti per qualunque cambiamento la vita ci offre. Perché arriverà il giorno, sempre troppo presto, in cui nessun cambiamento sarà più possibile.